Sì, sono il tuo gene dell'energia. Ho tenuto chiuso il frigo per non mettere su kilowatt. Ho messo il coperchio sulle pentole per non far bollire la bolletta. Ho abbassato il riscaldamento. Ma speravo di non restare solo stasera. Cosa devo fare ancora per risparmiare? Eh, ma così mi saltano le valvole. AMGA Energia e Servizi Risparmiare sul gas e sull'energia elettrica Non è uno scherzo. Davvero geniale!